Ciao a tutti, da Filippo Giannini di Trading Facile, ben ritrovati al nostro concerto appuntamento con la videoanalisi settimanale sui principali mercati e le strategie dei nostri trading system. Oggi è giovedì 2 aprile 2020, oggi andremo ad analizzare il quadro tecnico ed operativo sul nostro Fuzzi Mib. Prima di iniziare però, al solito, volevo ricordarvi i prossimi appuntamenti gratuiti sul nostro sito www.tradingfacile.eu slash blog, trovate oltre a tutte le ultime news di mercato, quindi gli aggiornamenti tecnici ed operativi, fatti chiaramente anche con l'analisi algoritmica dei nostri trading system, trovate qui sotto agli eventi della settimana i prossimi appuntamenti gratuiti. Vi segnalo il prossimo webinar, martedì 7 aprile 2020, ore 18, per parlare di strategie intraday sul DAX. Avremo poi mercoledì 22 aprile alle ore 17 il prossimo webinar, per chiudere martedì 28 aprile 2020. Mi raccomando, come ho detto, la descrizione è gratuita, iscrivetevi subito in maniera da ricevere poi il reminder sulla vostra casella di posta elettronica. Bene, andiamo sul grafico ad analizzare il quadro tecnico ed operativo sul nostro Fuzzi Mib, perché quello che stiamo vedendo in queste sessioni è sostanzialmente un mercato che sta scambiando in fase laterale. Qui c'è questo range benchmark che è costituito, a mio avviso, appunto dalle barre daily del 24 e 25 marzo, quindi abbiamo questo range che va presso a poco da quota 16.000 a quota 17.500 punti, che sta al momento contenendo gli scambi. Quindi qui zoomiamo su un grafico ad un'ora e quindi, diciamo, ecco questo è il range sostanzialmente che sta contenendo gli scambi. Quindi, a mio avviso, finché il mercato continuerà a scambiare all'interno di questo range, non avremo mosse significative. Quindi, mi raccomando, attenzione all'operatività, insomma, in questo contesto, perché il mercato, insomma, potrebbe, come sta facendo, insomma, ecco, sbattere tra supporti e resistenze senza prendere una direzionalità precisa. Alcune considerazioni tecniche che possiamo fare, innanzitutto a livello generale, come vediamo che comunque anche all'interno di questo, di quest'area di trading range, comunque sia, le vendite, nelle ultime sessioni, le vendite dei massimi della prima ora, diciamo, denotano comunque sia debolezza. Anche l'attacco per ben due volte al supporto a quota 16.000 punti denota che comunque sia, c'è ancora tanta debolezza sul mercato e sotto quest'ottica, magari, come spesso accade, il terzo tentativo potrebbe essere risolutivo, perché come sappiamo, appunto, molto spesso il terzo attacco a livello significativo, sia il suo supporto e resistenza, produce poi, o meglio, detta poi gli esiti del mercato, sia in caso di rifiuto del prezzo, sia in caso di nuovo break al ribasso. Break al ribasso, che comunque sia ritengo al momento essere l'ipotesi più probabile, quantomeno anche in caso di mantenimento dei minimi annuali, che comunque sia sono importanti, questi minimi a quota 14.000, ritengo che comunque sia il mercato abbia grosse possibilità di ritestare, quantomeno area 15.000, quindi prepariamoci, a mio avviso, comunque sia almeno ad un ritesto di quota 15.000 punti. Per quanto riguarda l'attacco ai nuovi minimi annuali, è chiaramente qualcosa che non possiamo scongiurare al momento, ma comunque sia fare previsioni di media e lungo periodo, in questo momento, insomma, è particolarmente difficile. Quello che posso dire è che, a mio avviso, ritengo che anche in caso di break di nuovi minimi non assisteremo a un qualcosa, a un nuovo minimo particolarmente significativo. Potremmo, a mio avviso, vedere il mercato battere quota 13.000 punti, ma ecco, magari indichiamo in ultima analisi 12.500, che potrebbe essere, a mio avviso, un livello, un nuovo minimo che il mercato potrebbe fare, però non mi aspetto, comunque sia da qui alla fine dell'anno, una nuova grossa discesa in termini di estensione del movimento di prezzo al di sotto di questi minimi. Quindi, a mio avviso, ci sarà un nuovo minimo, saranno comunque sia al massimo sui livelli che abbiamo detto, quindi 13.000, 12.500 al massimo. Quindi, tornando appunto all'interno della nostra area di trading range, è chiaro che, comunque sia come detto, finché il mercato scambierà all'interno di quest'area non avremo grosse indicazioni, però chiaramente come termometro, appunto, un nuovo recupero di quota 17.000 punti, è chiaro che potrebbe fornire, o meglio, potrebbe aumentare le aspettative di ulteriore recupero del mercato. Però, anche qui, ripeto, massima attenzione, perché abbiamo diversi livelli di resistenza, dove, a mio avviso, nel multiday, torneranno ad attaccare i venditori, quindi abbiamo quota 18.000 punti, quota 19.000, vediamo anche quota 19.500, 19.850, quota 20.300 punti, quindi, tanto per capirci, finché il mercato non andrà a chiudere questo gap importante che era stato aperto nella giornata del 9 marzo, insomma, ecco, sarà difficile, insomma, vedere un recupero maggiormente significativo. Bene, al solito andiamo a commentare alcune operazioni svolte dai nostri trading system nel corso dei giorni scorsi, non molto, perché, come detto, insomma, in tale contesto anche, chiaramente, le strategie non hanno particolari setup operativi. Qui vi segnalo due operazioni aperte nella giornata, appunto, di ieri, dove, come detto, siamo andati a vendere i massimi, in questo caso, dei primi 30 minuti di contrattazione, quindi 16.495 punti per chiudere, poco prima della chiusura del cash, quindi dell'indice, quota 16.635, quindi 130 punti di Futsimib. Anche qui una strategia di un differente algoritmo, ma poco cambia, in questo caso la vendita è partita da quota 16.515, e anche qui chiusura alle 17.30, quindi sostanzialmente sui tempi di chiusura dell'indice, e quindi anche qui abbiamo portato a casa altri 150 punti. Bene, io al solito vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu, qui sotto la sezione trading system, se ci volete contattare il nostro indirizzo mail è info-tradingfacile.net Anche per oggi è tutto, un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti!